Un video postato sui social che solleva dubbi sulle pratiche di alcune macellerie etniche nel quartiere Ferrovia di Foggia con carne cruda scaricata direttamente su strada, norme sanitarie che spesso da quelle parti vanno a farsi benedire, sicurezza ai minimi termini e degrado tanto che hanno trasformato quello che una volta era ribattezzato come il salotto della città in una zona da cui tutti tendono a scappare. E' un grido di dolore senza fine quello dei residenti del centralissimo quartiere Ferrovia di Foggia con segnalazioni continue di situazioni ormai fuori controllo, residenti che si sono costituiti in comitato nell'attentativo di sensibilizzare le istituzioni denunciando le condizioni di abbandono e il degrado crescente di un quartiere ormai non più vivibile, popolato di attività di arabi, africani e asiatici, si fa sempre più fatica a ritrovare attività commerciali italiane, nel frattempo cresce la rabbia di quel che resta degli abitanti che da tempo chiedono risposte e hanno riposto le loro speranze negli interventi delle autorità locali sia sulle condizioni igieniche che su quelle generali di un quartiere dove anche il mercato immobiliare ha subito notevoli contraccolpi e dove vendere un immobile è diventato praticamente impossibile con il valore degli appartamenti sceso ai minimi termini e una qualità della vita che ha ormai raggiunto livelli non più tollerabili.